Tornando a casa stasera troverete i bambini. Fategli una carezza e ditegli questa è la carezza del padre. Bastarono pochi gesti, poche parole e subito lo chiamarono il Papa Buono. Ci sono delle persone che quando le incontri illuminano la tua vita per sempre. Una luce divina che risvegliò le menti dei potenti della terra. Noi supplichiamo tutti i governanti di non restare sordi a questo grido dell'umanità. La Domenica di Pasqua con Bob Hoskins, il Papa Buono. In prima serata su Canale 5.